Eccolo qua che sta arrivando, Rudy, buonasera, ben ritrovato su Keltoi Radio, eccoti qua. Buonasera Agal, buonasera a tutti i teleradioscoltatori di Keltoi. Come sempre sono felice di entrare in questo magnifico cerchio, rinvigorito e rinnovato e purificato dalle ultime celebrazioni comuni. Ringrazio quanti in questo momento si sono collegati per guardare questa nostra condivisione. C'è stato poco tempo per avvertire tutti, come di solito cerco di fare con l'evento su Facebook. Comunque grazie per chi, nonostante il poco preavviso, si è collegato. Ringrazio anche come di solito faccio tutti i miei maestri passati, presenti e futuri, in particolar modo il mio maestro Aristide, che lui non mi guarda perché non ha internet, è un uomo d'altri tempi, comunque. Peggio per lui. Mi faceva piacere ricordarlo perché è una persona molto importante nella mia vita. E ora che si adegui. E ora che si adegui, va bene. E beh, lo scusami. Nell'era di internet, almeno seguire uno dei suoi allievi che fa una cosa di questo tipo, fare una connessione internet non mi sembra una grande cosa. Perciò una cosa così sconvolgente. Hai ragione, ma poi sai che bisogna rispettare molti i tempi di ognuno. Assolutamente, sì. Ecco, mi pongo innanzi a voi con questa ruota, questa ruota dell'anno, ma anche ruota di medicina, che rappresenta, come tutti sappiamo, i quattro elementi, o i sei, o i sette. Rappresenta i sette colori principali, più il bianco e il nero. E rappresenta quello che noi durante l'anno siamo nel divenire, nell'essere, nell'apparire, nel creare. Quindi onoro questa ruota e onoro tutti quelli che mi accompagnano in questo percorso. Allora, la puntata di oggi sarà dedicata alla celebrazione di Involk, però per arrivarci, come noi abbiamo fatto l'altro giorno per arrivare al nostro rituale pieno, abbiamo fatto un percorso, per arrivarci abbiamo bisogno di un percorso, per capire un po' di cosa si tratta quando parliamo di celebrazione, quando parliamo di rito, quando parliamo di ringraziare e onorare la nostra vita e quella della natura che ci attorno. Allora, nell'antichità, Gal, tu adesso sei con la prima foto, con la foto 1, di Gianessa. Eccola qua, che sta arrivando. Beh, qua ho pensato bene di onorare alcuni oggetti sacri che utilizzo, magari per dare spunto ad altri di costruire i propri. Bene, nella seconda foto cosa vediamo? Vediamo un'antica cappella di montagna, poggiata su un grosso masso. Questo grosso masso non è altro che un antichissimo altare, io posso definirlo druidico o dell'epoca dolmenica, comunque un grande masso votivo spostato lì da antiche genti, messo in un punto di energia della terra, e più precisamente su un incrocio di due vene acquifere. Poi le cose sono cambiate col tempo e sopra vi è stato costruita poi questa cappelletta votiva. Come spesso facevano i cristiani? Ma perché la relazione che comunque le persone del luogo avevano con le entità del luogo doveva poi manifestarsi a seconda di tempi in una certa maniera. Anticamente si spostavano pietre e poi nel tempo a venire si sono costruite delle cose tridimensionali con pietre e calce, perché poi è nata la calce. Allora, cosa succedeva? Che nell'antichità l'uomo per ingraziarsi, per venerare, per fare sì che la natura continuasse il suo ciclo in maniera produttiva per il suo sostentamento, faceva delle processioni, faceva dei percorsi spirituali, dei percorsi votivi attorno al luogo in cui lui abitava, pregando e onorando e ringraziando per attivare e rigenerare la natura e tutto quello che stava attorno. Nell'antica Roma questi percorsi venivano chiamati Ambar Vales, da Ambio, cioè vado in giro, ad Arvum, che è campo. Arva infatti sono le terre coltivabili di una città. Durante queste processioni, per esempio nell'antica Roma, perché non possiamo dare un riferimento, per esempio, per quello che riguarda il celtismo, perché non abbiamo nulla di scritto, sappiamo, quindi ci facciamo riferimento a un'epoca lì vicino, quindi durante queste celebrazioni venivano sacrificati gli animali, come un toro, una scrofa o una pecora, che prima del sacrificio venivano portati attorno ai campi o al luogo in cui gli abitanti volevano propiziare le loro azioni e i loro raccolti e le loro coltivazioni. A questo punto, finito questo percorso, gli animali poi venivano sacrificati, come sappiamo che facevano le genti antiche, e questo sacrificio era poi chiamato Soveo Taurilia. Questi sacrifici erano fatti in onore appunto dei lari del suolo, quindi le divinità del luogo, di Semones, che erano la personificazione delle sementi, e di Cerere, che era questa divinità romana. Questo tipo di azione, che sicuramente veniva fatta anche dai nostri antenati celti, serviva quindi per entrare in contatto con il luogo e serviva per attivare vari punti. I punti che venivano attivati erano punti come quelli che vi ho fatto vedere adesso in questo momento, relativi a luoghi di grande energia tellurica, che venivano poi segnalati con dei massi, quindi dei ricettrasmettitori, e poi più tardi con delle cappelle. Quindi queste processioni erano scandite da delle fermate devozionali e rituali in questi punti. Lo facevano sia i druidi, lo facevano sugli auruspici, e lo facevano poi conseguentemente anche i sacerdoti cristiani o non cristiani. Allora, questi punti, questo mi preme dirlo, non sono solo segnalati energeticamente da un'energia legata all'acqua, ma sono segnalati anche da un'energia intrinseca che i geni del luogo convogliano. Allora, un discorso un po' più complesso, però per farla breve, un determinato luogo con una certa caratteristica e con certi geni, con certe entità di natura, certe elementali, che convivono con l'uomo, con la natura che lì c'è, trovano un canale per comunicare con l'uomo in questi punti. E quindi c'è la doppia interazione della caratteristica geologica e quella esoterica, quindi spirituale, quindi nascosta, e quindi diciamo che non è quantificabile, ma è soltanto percepibile. Andando avanti poi nel tempo, questi ambarvales vengono chiamati dopo il IV secolo, vi faccio un po' di storia così per stare con i piedi per terra, dopo il IV secolo vengono chiamate erogazioni. Rogare in latino vuol dire fregare in maniera ripetuta, quindi dopo il 400 d.C. un primo vescovo gallo trasforma queste processioni celtiche e le fa diventare cristiane. Però fondamentalmente la funzione è sempre quella, cioè quella di attivare la zona in cui si vive, possibilmente creando una sorta di cerchio, e modificare quindi la natura energetica di quel luogo. Questo come viene fatto? Non viene fatto a caso in un momento qualsiasi, ma viene fatto in determinati momenti astrali, in modo che queste congiunzioni favoriscono l'energia che deve fluire. Quindi è chiaro che quando c'è la necessità di attivare un seme che è stato piantato a terra e dargli il massimo delle possibilità di germinare, ecco, quel è il momento giusto per fare uno di questi percorsi. Quindi eventualmente, come nell'antichità, sacrificare un olocausto, oppure più avanti pregare portando un croce fisso, via dicendo. Allora, quello che veniva fatto fino a 50-60 anni fa con le erogazioni era un sistema da parte di chi lo faceva, ma anche di chi lo ufficiava. Io, vabbè, direi così non consapevole, perché si eseguiva semplicemente una metodica consolidata, si faceva e basta. Se noi invece pensiamo alla riscoperta delle nostre radici spirituali, siamo alla riscoperta del nostro contatto puro con la natura, vogliamo metterci in ascolto, vogliamo capire meglio, cosa facciamo? Andiamo a ricercare questi punti di energia, questi canali di dialogo con le forze di natura, li andiamo a cercare in posti e in luoghi che non sono segnalati. ovvero, cerchiamo di metterci in ascolto per capire quale elemento, per esempio, della natura, quale dei quattro elementi della natura, entra meglio in comunicazione con noi in un dato posto. Per esempio, un luogo in cui una grande quercia sopraelevata che dà la vista su uno spazio molto ampio ci si rivela, quello può essere per noi un luogo legato all'elemento aria. E poi, andando a meglio ben vedere, ci si può anche rivelare che vicino a questa quercia esiste una porta di accesso per entrare in comunicazione con quell'elemento. Qua è un'altra cappelletta. Quindi, al tempo delle erogazioni cosa succedeva? Che il sacerdote, alla testa, con il crocefisso alzato, e tutto il popolo dietro partiva dalla chiesa dove veniva fatta la messa, e poi si recava in ogni cappelletta, e su ogni cappelletta diceva messa, dava una benedizione, magari anche diceva messa, comunque faceva una preghiera speciale. Durante tutto questo percorso, tutte le persone pregavano incessantemente. Pregavano chi? Pregavano i santi che un determinato santo che non facesse cadere la grande, pregava un altro santo che non facesse cadere il fulmine, pregava un altro santo affinché le messe fossero feconde. Insomma, tutto era sviluppato attorno al concetto che mi rivolgo all'entità giusta per chiedere quella frequenza, quell'energia giusta per lo scopo che mi serve. Ed era esattamente quello che capitava con i romani, ed era sicuramente esattamente quello che capitava con le genti celtiche. Questa cappelletta è all'interno di uno di questi percorsi. Se mettiamo la successiva, vediamo l'immagine che c'è dentro la cappelletta, e così capiamo ancora meglio di cosa la parliamo. Ecco, questa è una splendida immagine di una madonna nera, adesso qua è più grigia, con una mitra in testa che porta un globo che rappresenta la terra e con un bambino. L'altra, la puntata precedente abbiamo visto questa rappresentazione di Ishtar e la rappresentazione del femminile di cos'è, di cosa non è, abbiamo visto i serpenti, abbiamo visto varie cose. Allora, questa non è altro che l'energia di un'entità femminile o dell'entità femminile, della dea, inserita all'interno di uno di questi punti con il quale gli abitanti del luogo entrano in contatto quando il sacerdote attiva questo punto e quindi richiama l'energia di questa forza che scende sulle genti, scende sulle messi, scende sugli alberi, scende su tutto quello che c'è in quel punto, in quel luogo e lo feconda, ok? Se mettiamo la successiva, questa è la dea è la dea di Imbolc e Brigitte così come veniva chiamata per le antichi genti irlandesi ve le metto vicino per capire la potenza di queste energie bene, se mettiamo la successiva questa è un'immagine che chiaramente ho preso dal web è il triplice aspetto della Brigitte poi Aga, se tu nel frattempo vuoi raccontare qualcosa su Brigitte sarebbe interessante e bello anche perché chi ci ascolta magari non è ferrato sull'argomento non segue magari il certismo e sarebbe bello che tu avrei brevemente racconti qualcosa di lei e del suo triplice aspetto perché è così io poi posso aggiungere qualcosa dopo Sì, sì, Brigitte è la divinità per eccellenza del mondo irlandese era la dea dei poeti, dei fabbri, degli artisti è la dea che viene considerata colei che riavvicina il momento dell'anno legato alla luce alle giornate che si allungano è una divinità molto potente e molto considerata nel panteon celtico e in questi giorni ci siamo permeati della sua energia ci siamo proprio ammantati proprio il suo mantello ci ha durante il rituale ci ha ci ha avvolto nella sua potente dolcezza io oserei chiamarlo in questo modo questo è quello che mi sento di dire della dea Brigitte che è onnipresente non soltanto in questo periodo dell'anno questo è quanto bene, e quindi diciamo che sempre a favore di chi non conosce la storia è bene ricordare un attimo come sono le cose intorno al 400 dopo Cristo questa figura di di Badessa di madre Badessa di questo convento di Kilder di questa Brigida si dice figlia di Druidi e poi diventata per la cristianità la famosa Santa Brigida che si festeggia il primo febbraio e quindi è l'ennesima dimostrazione di come la cristianità ha assimilato questa questa energia ma forse non è neanche giusto dire così comunque ha assimilato questa vocazione delle persone a interagire con questa energia dandole un nome molto simile o uguale praticamente a quello che già loro conoscevano l'azione che di solito era quella di essere totalmente contro di denigrare poi di accettare e poi di incorporare in questo caso è stata più che mai soddisfatta perché la festa di Inbol che è una festa di purificazione o perché è così intesa è stata così intesa nella cristianità e qual è la spiegazione che viene data questo è un fatto interessante per poter capire meglio un concetto che poi spiegherò dopo 40 giorni che Gesù nasce per la cultura ebraica la donna deve andare al tempio da sacerdote presentare un sacrificio e venire purificata perché viene considerata in cura ma questa opera di purificazione fatta in questo momento astrale ecco che prima si parlava di fare queste processioni non a caso ma in un momento giusto questa operazione qui è così per tutti cioè questo momento astrale vale per tutti vale per tutte le spiritualità o religioni di questo disfero perché in questo momento c'è la possibilità di essere purificati e quando noi abbiamo celebrato l'altro giorno con questa neve incessante è stata una purificazione portata alla massima potenza perché la neve è purificazione la neve disinfetta i campi la neve preserva la neve è pane come si diceva antichamente non so quante persone avrebbero potuto stare cinque ore e mezza sotto la neve incessante è stata una allora ci siamo guadagnati il nostro pane e sarebbe stato molto più facile più semplice rimandare o rinunciare però noi cerchiamo di non fare le cose troppo semplici perché come dicevo le benedizioni bisogna guadagnarsele poi è anche di molto peggio ebbene e in cerca di luoghi di potere effettivamente lo siamo lo siamo stati e continuiamo ad esserlo e lo faremo quindi intanto che le nostre gambe ci porteranno in questi luoghi quindi se vai con la 7 questo è un grande luogo di potere sono delle fantastiche guie e mi dispiace soltanto per le persone che non hanno potuto partecipare o che magari non hanno voluto rischiare o partecipare a questo rito di Imbolc hanno perso una grande occasione perdonatemi no vabbè ma dai cercheremo di hanno perso una grande occasione perdonatemi sicuramente difficilmente rimedicherà così ad Imbolc penso allora questo grande luogo di potere un luogo di potere naturale regno regno di sinfidi è scusate il regno di ondine è il regno di spiriti acquatici di ninfe di ninfe sì come i romani e i greci chiamavano questi spiriti ho dei cari amici che frequentano questo luogo che vedono un'entità legata femminile bionda molto amorevole ma anche molto ferme decine questo è questo è uno dei luoghi più incredibili della valpiusella vi metto solo questa nota storica che questa che dieci anni fa un gruppo di strane persone ha deciso di praticamente bloccare il corso di questo fiume a monte di questo splendido luogo e poi di fare una trivellazione dentro la montagna per deviare il corso di fiume per servire una centrale idroelettrica dalle capacità poi energetiche veramente limitate se non nulle fortunatamente un gruppo di persone piazzandosi davanti alle draghe alle ruspe ai loro macchinari è riuscito a fermare questa pazza idea altrimenti queste foto che io ho fatto poco tempo fa non sarebbero state le stesse quindi guai a voi uomini disgraziati quando vi vengono in mente queste idee malsane di deviare il corso di un fiume tale di mettere le mani su questa bellezza unica io vi dico sinceramente che vi maledico con tutte le mie forze vi dico questo perché in questo momento in Val Chiusella ci sono altri due tentativi di bloccare il corso del fiume di deviarlo di cementificare di fare disastri vi dico anche che Val Chiusella è il secondo fiume con il biotopo più incontaminato del nord Italia quindi vi invito a venire in Val Chiusella e godere di questa particolarità e maledico nuovamente le persone che vogliono mettere le mani per quattro spiccioli su questa splendida cosa e vi maledico una terza volta perché l'energia idroelettrica prodotta è meno del 3% di quella che il Piemonte utilizza e vi maledico un'altra volta scusate che ho finito perché in realtà già abbiamo le centrali nucleari attaccate al culo e penso che questo basta quindi scusate questa era doverosa da fare e sappiate che questa è proprio energia che magari sconterò in un'altra vita però devo dire nella 8 un'altra prospettiva di questo fantastico luogo tenete conto che questo fiume si chiude tutto e passa in quella piccola fenditura che c'è che c'è lì centralmente come un utero naturale questo è un grande utero della grande madre è un grande utero della grande madre è un posto veramente mistico con un'energia indicibile io lo amo con tutto lo stesso questa nella 9 è un'altra foto ragazzi siete discordanti Leonardo dice non maledire mai a nessuno l'ancillotto mi aggrega la maledizione sarà banda bravo Rudy ti capisco assai Leonardo hai ragione hai perfettamente ragione però la rabbia comincia a essere tanta comincia a essere tanta le persone sono stanche esatto qua non c'è più bisogno allora qua bisogna fare ognuno utilizzi i mezzi che ha a disposizione se ha la possibilità di andare davanti alle draghe e fermarle quando vogliono distruggere il luogo in cui vivi vai se hai la possibilità di contattare e confrontarti con delle energie le quali non aspettano altro che sentire il tuo amore puoi farlo e ognuno usa i suoi sistemi la vita è una sola qua la gente continua a vivere nell'apatia nella noia svegliatevi godetevi quello che avete non permettete che venga distrutto sotto gli occhi io qua ci voglio tornare finché vive voglio trovarlo intatto e incontaminato e nessuno deve togliermi questa possibilità farò solo io non lo so però questa è la mia vita è solo la mia vita va bene dai la 10 un'altra la 10 è veramente bella allora parlevamo di processioni parlevamo di percorsi spirituali parlevamo di devozione e allora questo è un luogo legato all'elemento acqua è legato al spito è il luogo di briti scusa no no niente no perché Leo Corno dice una benevola maledizione non si nega a nessuno ecco quindi se lo dice lui ragazzi state tranquilli allora il nostro percorso devozionale di attivazione di di ringraziamento di benedizione di purificazione che abbiamo fatto durante la cerimonia di Inbol è venuto anche qua è venuto qua a onorare e ringraziare a chiamare l'elemento acqua su di noi perché noi abbiamo gli elementi dentro di noi dobbiamo semplicemente dignificarli chiamare riconoscerli e far sì che questa forza entri in noi che questa madre ci accoglia e quindi qua nel nostro percorso non c'è un punto specifico perché qua tutto è satto e qua abbiamo chiamato e ringraziato la cosa bella che siamo riusciti a fare qual è stata? è stata quella di far interpretare a delle persone veramente di cuore io le ringrazio tantissimo far interpretare questi ruoli e far entrare dentro di loro questi elementi e vi garantisco che il momento in cui la persona che ha trasferito su di sé l'elemento acqua ha chiamato l'acqua e si è presentata come acqua è stato un momento emozionante dove tutto è risuonato con l'acqua con la madre con la divinità e per me è un momento che ormai è scolpito dentro di me e penso anche per te Agal Rudy guarda io di rituale ormai ne ho un ventennio sulla groppa ma devo dire che questo rituale per certi aspetti è stato tanto diverso dagli altri e in particolare ecco come dicevi tu quando la ragazza in questo caso Claudia ha interpretato l'acqua lei era acqua lei ha interpretato e ha proprio incorporato quello che era l'elemento acqua questo può far capire quanta potenza c'è in quel luogo e lì poi abbiamo raccolto l'acqua che ci è servita per il rituale quindi l'acqua si è caricata delle nostre preghiere si è caricata delle nostre speranze si è caricata dell'energia del luogo la grande differenza nel momento in cui diviniamo consapevoli di quello che stiamo facendo dell'azione che abbiamo nella materia e nello spirito la grande differenza è questa non stiamo più recitando qualcosa che non conosciamo stiamo veramente facendo quello che noi sentiamo cioè non abbiamo più un libretto di cui non capiamo frasi significato perché magari sono pure latino o qualcuno per noi fa no noi siamo lì siamo nel cerchio e tutti quanti partecipiamo perché diveniamo consapevoli attraverso la nostra sensibilità di trovarci in un luogo sacro non c'è nulla che ci deve segnare che quel sacro una scritta o no noi lo sappiamo perché lo sentiamo a pelle che quel sacro va bene mettiamo la 11 Leonardo comunque mi associo a quello a quello che a quello che hai detto assolutamente sì però ti posso garantire che le persone che con cui stai interagendo in chat sono delle care persone non hanno assolutamente non sono né violente né col pensiero né con né con l'intento né con l'intento di cuore solo che in queste nostre zone negli ultimi tempi stanno veramente cercando di distruggere la sacralità dei luoghi e per quante benedizioni noi possiamo mandare forse non siamo ancora non abbiamo ancora raggiunto la massa critica per far cambiare questo tipo di di andamento forse anche per colpa nostra no poi ecco sei bene Aga che proprio nella tua zona vogliono praticamente fermare il corso di un torrente che è l'elvo se non sbaglio incanavarlo all'interno di una condotta forzata quindi attraverso una perforazione dentro la roccia e farlo andare in un altro fiume in un altro torrente per avere dell'energia idroelettrica allora l'energia idroelettrica per chi non lo sa ormai è completamente fuori da qualsiasi parametro valido di produttività questo è proprio confermato e certificato ma perché vengono fatte queste cose perché ci sono dei finanziamenti europei fino a tutto il 2012 quindi questi qua stanno cercando in tutti i modi di sfondare queste cose e quindi cercano di utilizzare questi finanziamenti io vi dico solo che in Valchiusela la ditta che è venuta per fare questo lavoro che è una municipalizzata del comune di Settimo Torinese ha 60 milioni di debiti praticamente è in bancarotta e gira brancolando come un disperato per cercare delle commesse per avere subito dei finanziamenti dei fondi che vanno a coprire i loro buchi quindi questa è la situazione totale in Italia per quello che riguarda le rinnovabili sull'idroelettrico specialmente in Piemonte abbiamo a che fare con dei delinquenti che non guardano in faccia a nessuno e che saranno per questo maledetti ok scusate ancora io utilizzo questo spazio come è giusto che sia perché la 11 questo è una grande roccia che spunta dal terreno nei paesi di questa roccia c'è un punto di energia consacrato da antichi sacerdoti e questo per noi durante il rituale era rappresentato l'elemento terra perché era l'elemento più basso con questo spuntone di roccia magnetica che rivelava proprio la struttura della terra sotto la pelle e su questo punto abbiamo poi fatto un bellissimo cerchio e ripetato le nuove fiamme di Bredi la nostra cerimonia poi si è conclusa con questo rito nel cerchio sacro ed è stata fatta se metti la 12 in prossimità di queste tre rocce che io ho già parlato di queste tre rocce di questo luogo in una puntata qualche puntata fa queste tre rocce non sono altro che tre altari consacrati sempre da da antichi sacerdoti hanno frequenze di energie diverse ogni altare ogni masso ha ai suoi piedi la sepoltura di un sacerdote e l'energia di queste pietre cambia in funzione di varie componenti quello che vi posso dire è che abbiamo fatto uno studio con un naturopata e con una macchina particolare che poi presenterò qua in radio presentando di amico su naturopata e abbiamo visto come l'effetto dell'esposizione a queste pietre modifica in maniera considerevole i campi energetici umani questo è stato il luogo dove vicino a queste pietre è stato il luogo dove noi abbiamo celebrato il nostro cerchio quindi un punto di grande energia è un punto molto antico se metti la 13 vediamo da più vicino le tre pietre o è meglio dire tre altari nella 14 vediamo l'altare di sinistra e nella 15 vediamo questa entità di natura è un melo che probabilmente ha tra i 150 e i 200 anni ha un portamento magnifico e quando ci si trova sotto le sue fronde la sensazione è unica purtroppo non ho fatto una foto con la neve o almeno l'ho fatta però non è venuta strabene insomma quando quando si parla di di come le entità del luogo plasmano la natura la materia e anche quella vegetale la la trasformano la loro somiglianza in immagine questo è un buon esempio per capire questa vecchia entità come si è come si è instaurata bene in questa pianta che tra l'altro è in relazione energetica poi con i tre altari e come insomma abbia mantenuto intatta questa energia primordiale per me perché poi tutto il luogo possiede questa antichissima energia poi Aga se vuoi aggiungere qualcosa sul luogo si Rudy no no ma adesso vai pure nel senso che se mi viene ti dico perché per me le sensazioni sono ancora sono ancora fresche mettiamo la 16 questa è una foto vista dal cerchio dove eravamo questa è la direzione di nord-est la direzione da cui arriva Brigitte quindi la direzione in questo caso in cui c'è proprio il fiume e da cui arriva l'energia della madre della dea infatti se mettiamo la 17 io ho aggiunto questo particolare proprio per significare che poi la copertina dell'evento che ho messo su facebook nel 17 io ho inserito la figura di Brigitte in quel punto perché è proprio il punto da cui attraverso l'acqua e la sua benedizione è arrivata a noi io l'ho sentita così quindi questo piccolo college l'agile ho cercato di portarvi quell'energia che io ho sentito perché diversamente le parole e le immagini sono limitate e questa e questa invece è la foto del nostro gruppo che ha partecipato a questo a questo momento questo momento di passaggio questo momento di trasformazione ecco ecco a proposito volevo ancora aggiungere qualcosa su quello che sono le celebrazioni volevo dire a tutti che quando si celebra è un momento magico è un momento intenso non sempre un momento facile perché il nostro inconscio con le sue barriere ci porta a comportarci ad atteggiarci ad avere dei pensieri che sono diversi da quelli che vorremmo alle volte non ce ne rendiamo neanche conto quindi la celebrazione e il rito ci mette a confronto con queste cose e in qualche modo ce le spinge fuori proprio perché hanno bisogno di essere sanati in quel momento lì quindi non pensino le persone che magari non conoscono questo modo di fare che sia tutto bello facile simpatico al di là della neve no anzi il rito così come inteso nel celtismo ma anche in altre tradizioni il rito scandito dalla stagione non è altro che la ricapitolazione di un periodo di vita che deve essere poi compreso deve essere capitolato quindi assimilato e anche celebrato fondamentalmente perché noi non stiamo solo celebrando l'entra di natura non stiamo solo celebrando il padre e la madre ma stiamo celebrando anche noi stessi la nostra vita la nostra unica vita su questa terra in questa forma stiamo celebrando la fiamma che è dentro di noi l'acqua che è dentro di noi quindi l'importanza poi di arrivare al luogo del rito ringraziando come abbiamo fatto tutti e quattro gli elementi dando ogni elemento il suo giusto valore sia fuori che dentro è importante è più importante ancora farlo in maniera consapevole se poi riusciamo io parlo per me ma non voglio dare lezioni a nessuno a sacralizzare la nostra vita in ogni istante noi andiamo bene perché questo volano continuiamo a farlo girare questo percorso è sempre dentro di noi poi comunque siamo qua per imparare siamo a scuola è chiaro che arrivano le mazzate arrivano le cose tristi però l'importante è affrontare poi le cose da guerrieri io penso che il cerchio dell'altro giorno era veramente un cerchio di guerrieri con una potenza una grande potenza e poi lancio la 19 è un elementale del luogo ridiamoci anche un po' ridiamo anche un po' di noi perché abbiamo dentro anche Lucia l'asina sì che è veramente splendida e anche molto socievole mentre mentre tornavamo via ci è venuta incontro a salutarci e ciò è stata e anche qui è stata una un bel momento e quando hai suonato e quando hai suonato la conchiglia e quando ho suonato quando ho suonato la conchiglia ha ragliato sì è vero si è si è si è intonata al canto bene cosa dire che la nostra bride brit brigantia briget bri breda con tutti i nomi possibili immaginabili la signora ci ha la grande signora ci ha accompagnato in questo rituale la sua presenza è stata assolutamente forte saluto vi ringrazio per l'ascolto e che dire di più ringrazio agal ringrazio tutti i fratelli e le sorelle che hanno partecipato al cerchio di imbolk saluto chi non c'era e che comunque ci è stato vicino come briga per esempio a cui mando un bacione grandissimo e l'augurio qual è? quello di allargare ancora questo cerchio o comunque l'augurio è che ognuno allarghi il proprio cerchio e condivida le proprie esperienze le proprie sensibilità il proprio sentire con gli altri con le persone che ha vicino tante volte ci sono delle incomprensioni anche tra persone che si conoscono da un po' di anni tutto si può superare magari il cammino non è lo stesso però se c'è la volontà ogni esperienza è buona e ho finito bene Rudy grazie ancora per essere stato con noi per aver anticipato la tua puntata